Poi, vai! Bambino, mettiti in cuore! Sto guardando, mi rimanano colpa a un milione di fanno. Grazie per la pazienza soprattutto. Vincenzo Amoddio, dov'è Vincenzo? Bravo! Si è fatto apposta i capelli. Oh, voi ci hanno fatto una pedofilia, ma non c'è bravo. Baccia Baracci, complimenti. Squadra seconda classificata. F.C. Poglica. Lo va a ritirare uno di due. Siete rimasti due. Ah, in tre. Eccolo lì. Miglior giocatore del torneo, designato da tutti i capitani delle squadre, partecipanti al torneo, Nicola Giordano. C'è chi ha vutato! Non è che va a vutato! Oh, è abbastanza triste comunque. Vincenzo. La quarta posizione del tramontio K. Campinola, prima classificata. Grazie a tutti.